bene ragazzi bentornati in un nuovo video oggi faremo una cosa un po particolare in realtà comunque parte del campionato regionale lombardia di enduro però vi mostrerò questo video in modo diverso rispetto al primo perché ho notato che la prima parte l'avete guardato in tantissimi mentre la seconda un po di meno quindi forse un po noioso un po ripetitivo verso vi metterò le highlights delle varie prove delle varie manche in caso farò un video secondario sui grandissimi fail che ho fatto che vi spiegherò man mano perché riguardandoli ho capito dove ho sbagliato e questa cosa di grande aiuto in ogni caso poche presentazioni andiamo dritti al punto e buona visione fatemi sapere comunque cosa ne hai pensato grazie allora l'idea adesso è non spingere davvero tanto più di altro una gran paura per la svedilella con le vibrazioni si è ancora staccata pista molto interessante mamma mia guarda come si muore mi raccomando scotch fai il tuo lavoro comunque io soperò fare il mio attenzione attenzione è un po' di più Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.